Musica Agile, bella, buona, sana, o lenta Valsugana A quanto pare abbiamo un livello 4 Con quanti morti? Si diffonde tra la popolazione con una rapidità sconcertante 19 morti e centinaia di contagiati Estramette al suo amico Daniels del caso Ma si può sapere perché mi vuol tenere lontano da quel... Non è un problema militare Attacca l'organismo senza lasciare scampo Debola ci mette giù a fare danni silenti Ecco la proiezione sulla propagazione Non so nessuno di lasciare la città Nasce la sopravvidenza di un'intera nazione Lavoriamo insieme davvero L'autorizza a partire con l'operazione tabula rasa Non posso farlo Che Dio ci perdone Virus letale Martedì alle 21, su Rite 4 La carie è un problema Dovevi pensarci prima Con l'azione dello xylitolo Vividen xylit aiuta a prevenire la carie Vividen xylit per venti più sani In edicola grazie Con un'idea elegante e preziosa L'esplosivo bracciale in argento con pendente a stella E la prossima settimana Completalo con i charms porta fortuna Scaramantici e spiritosi Scegli i ciondoli che ami di più Con grazia Assumi 8 euro in più Questo mese da Chateau Dax Saldi fino al 50% Su tutta la collezione Chi prima arriva Meglio scegli Chiamate l'800 132 132 Chateau Dax Sta bene con te C'è nessuno? Ci sono io! Guardatemi! Pronte? Profilo! Avete mai visto una particella di sodio così? No! Nemmeno io! Perché così non c'è! C'è nessuno! Acqua Lete L'effervescente naturale Ricca di piacere Povera di sodio Se ogni volta che ti avvicini al tuo computer È questo ciò che ti succede Allora hai bisogno di PC più facile Il corso completo per capire ed usare il computer PC più facile 52 fascicoli a schede E impari subito e bene PC più facile La risposta ad ogni dubbio informatico per tutta la famiglia Il primo numero in edicola solo un euro È gratis il CD con il corso completo di Windows XP Contro lo sporco più ostinato È arrivato Chili Bang Basta una sfruzzata e le piastrelle splendono Le incrustazioni non sono più un problema Chili Bang elimina il calcare dei sidi di sapone Con la sua efficacia straordinaria Vi presento Chiara Da oggi è dei nostri Ciao sono Stefano La messa non è fantastica ma è meglio dei tuoi capelli Come? Già, seguimi Come si può pretendere che le cose funzionino con quei capelli? E questa è Lisa la mia assistente La prossima volta sistemati i capelli I tuoi capelli in origine lisci ti rendono paranoica La nuova crema salsmica alle proteine di pura seta Li liscia all'istante senza risciacquo Grazie Nuovo Sanzi il cheliscio assoluto Con sorrisi, grandi interpreti Grandi successi, grandi apo D'Alessio, nomadi, battiato, cocciante Questa settimana uno come te Tutta la poesia e la passionalità del grande e amatissimo Gigi D'Alessio Sono con sorrisi in edicola Con Foros tutte le categorie possono richiedere un prestito da 1000 a 30.000 euro E rimborsarlo da 1 a 10 anni Chiama all'800 92 92 91 Per esempio 5.000 euro vi puoi restituire con 60 rate da 110 euro Oppure 20.000 euro con 120 rate da 276 euro Foros aiuta anche chi ha avuto protesti, signoramenti o finanziamenti appena respinti Chiama subito allora l'800 92 92 91 Skyline di Snydero ha cambiato la mia vita Spaziosa pratica con un design di tendenza Ma forse non vi siete accorti di qualcosa Snydero Skyline vi regala la lavastoviglie Electrolux Tecnologia svedese molto silenziosa Giocatevi bene questa occasione Può offrirvela solo Snydero E con 10... Cucine per la vita Ecco la strabiliante tecnologia Pronti ragazzi! Tagliare! Cerelli Nuovo Milka Lufflé così cremoso Cioccolato seccherato in arrivo Tenero cioccolato Milka montato a neve per creare migliaia di bolle Nuovo Milka Lufflé La cremosità di mille bolle di cioccolato In edicola grazie Con un'idea elegante e preziosa L'esplosivo bracciale in argento con pendente a stella E la prossima settimana completalo con i charms porta fortuna Scaramantici e spiritosi Scegli i ciondoli che ami di più Con grazie a sugli 8 euro in più C'è nessuno? Avete mai visto una particella di sodio così? Nemmeno io! Perché qui non c'è nessuno! Acqua Leti L'effervescente naturale Ricca di piacere Povera di sodio Al centro Pedigree I cani sceglievano sempre il pagliaccio Perché adorano sgranocchiare consistenze diverse Risultato? Il nuovo Pedigree con fagottini ripieni Croccante guscio di cereali E un soffice ripieno di carne E dopo un buon pasto Pedigree Dentastix Per la sua igiene orale quotidiana Pedigree Il meglio per il tuo cane Lo stiamo perdendo Libera Prego Paolo Ti prego Noi dobbiamo trovare chi ci ha fatto questo Mauro È una bomba molto rosa Non è opera di un esperto Purtroppo non sappiamo da qual ufficio postale è partito il pacco Entrati in coma Dobbiamo fare in fretta Perché chi ha tentato di ucciderla Presto scoprirà che non ce l'ha fatta e tenterà di nuovo Giovanna Non ce la faccio Devi avere fiducia in loro come loro ce l'hanno in te Roberto lo posso trovare in tasca non so come Sei un fenomeno Distretto di Polizia 3 Lunedì alle 21 su Rete 4 Cosa è successo? Signor questore Hanno cercato di ucciderci No veramente questore è lì Non potete scambiare i vernici Chi ha cercato Non potete scambiare i vernici Non potete scambiare i vernici Non potete scambiare i vernici Non potete scambiare i vernici